Dopo la sconfitta a Firenze con la Fiorentina Basket Coach, cos'è che è andato storto stasera? Il primo quarto siete partiti abbastanza bene, poi Fiorentina si è ripresa, ha preso le misure sulle seconde palle al rimbalzo, ha iniziato a difendere più duro, poi cosa è successo? Iniziamo col dire che Firenze ha vinto con pieno merito, è una partita dove ha vinto ogni duello individuale, stavolta non sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi, dopo la partita domenica pur avendola persa in volata e tirando male ero comunque molto contento perché avevamo fatto una partita da squadra solida, stasera invece non avevamo abbastanza energia per contrastare Firenze ma non tanto energia fisica perché siamo una squadra giovane in forma fisica ma energia mentale, la partita di domenica ci ha tolto tanto e non siamo riusciti a rigenerarci, quindi abbiamo subito tantissimo la fisicità di Firenze che sapevamo essere un punto a loro vantaggio, abbiamo subito tantissimo al rimbalzo sui secondi tiri e abbiamo perso soprattutto nel secondo quarto ogni duello individuale, è chiaro che una squadra giovane come la nostra subisce un po' queste squadre fisiche però finora siamo sempre stati bravi cambiando il ritmo delle partite a rimanere a contatto con tutti, oggi secondo me abbiamo fatto una partita un po' troppo giovanilistica dove invece Firenze con fisicità, esperienza, talento e anche tanta pazienza ci ha fatto male con quelle che poi sono le sue armi principali. Cosa mancano pochissime partite alla fine della regular season? Cosa pretende coach dai ragazzi per riuscire a mantenere le prime posizioni? La battaglia è molto accesa. Sì, la classifica è cortissima, noi siamo contentissimi di quello che abbiamo fatto fino adesso, siamo la squadra più giovane del campionato e siamo venuti a Umenia, Firenze a giocarci il terzo posto quindi per noi, noi siamo molto contenti di come sta andando la stagione però io dai ragazzi pretendo che crescano e quindi voglio che ripetano le prestazioni che abbiamo fatto le ultime tre partite fino a Umenia quindi che si evolvano in giocatori un po' più evoluti e maturi. Dal punto di vista della classifica adesso abbiamo una partita casalinga con la San Giorgese che dobbiamo vincere a tutti i costi e vogliamo partire come treni come è stato con Varese ma queste quattro partite sono tutte e quattro giocabili quindi mi piacerebbe fare più punti possibile per arrivare più in alto possibile.